Non solo l'acquisto di parrucche per malati oncologici ma anche l'istituzione di una banca dei capelli per favorire la cultura della donazione è stata presentata questa mattina a Palazzo dell'emiciclo la proposta di legge per un contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche per malati oncologici che vede come prima firmataria la consigliera regionale Marianna Scoccia assieme ai consiglieri Mariani, Paolucci e Blasioni. Il progetto di legge prevede un contributo per tutti coloro che affetti da alopecia a seguito dei trattamenti antitumorali necessitano l'acquisto di una parrucca oggi sappiamo tutti che le parrucche hanno un costo onerosi e purtroppo non tutti possono permettersela è un progetto che ho pensato e ho voluto fortemente perché rappresenta un'iniziativa molto molto importante è un atto di civiltà soprattutto nei confronti di quelle persone che oggi soffrono e già devono combattere contro questo brutto male e con le cure che ne conseguono e quindi con questo progetto noi andiamo, cerchiamo di evitare la sofferenza psicologica del paziente malato di cancro e cerchiamo di migliorarne la qualità della vita, il rientro al lavoro, la socialità e cerchiamo di superare la diseguaglianza rispetto a chi oggi non può acquistare una parrucca ma soprattutto lo ritengo un progetto molto importante perché finalmente se dovesse essere approvata questa iniziativa l'Abruzzo si eguaglia rispetto alle altre regioni d'Italia. In Italia sono soltanto 13 le regioni che hanno adottato un provvedimento simile ma questo progetto non prevede soltanto un contributo economico ma istituiamo anche la banca dei capelli che va ad incentivare la donazione delle ciocche dei capelli e attraverso delle convenzioni tra le associazioni di categoria dei parrucchieri e le imprese di produzione e di distribuzione di parrucche andiamo a sopperire piano piano il contributo economico e quindi a cercare di ottenere gratuitamente delle carre parrucche oppure ottenerle ad un prezzo molto molto più basso. Inoltre diamo anche dei contributi a favore delle associazioni di volontariato che oggi svolgono un importante ruolo sui territori ce ne è una in particolare che dona già delle parrucche in tutto Abruzzo.